Ciao a tutti, l'80% delle persone non si preoccupa dei tuoi problemi e il 20% è contento che tu li abbia. In questo video voglio spiegarti perché lamentarsi non serve, anzi è totalmente controproducente. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco. Ti ricordi inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandosi al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema. All'80% delle persone non gli importa dei tuoi problemi, quindi è inutile che tu vada a lamentarti. Quindi una delle caratteristiche delle persone è quella di lamentarsi. Magari sperando che lamentandosi possano ottenere dei risultati, ma puoi lamentarti con chi vuoi, anche con un parente, ma alle persone non interessa il motivo per cui tu ti lamenti. Puoi iniziare a interessare se questo può dare fastidio a loro, se può interferire nella loro vita. Ma altrimenti, al di là di quello, bisogna rendersi conto che gli esseri umani devono sbrigarsela da soli fondamentalmente. Non possono sperare nell'aiuto delle altre persone. E tra l'altro il 20% è pure contento del fatto che tu ti lamenti. Eppure contento perché un po' per invidia, un po' per altri motivi, è importante quindi evitare di andare a gratificare le altre persone raccontandogli i loro problemi, i tuoi problemi. E sembra strano, no? Quando qualcuno ti ascolta, probabilmente più perché sentendo i tuoi problemi si sente meglio lui. O sentendo le cose che tu fai, magari puoi imparare e non farle lui. Perché una cosa interessante è imparare dagli errori degli altri. Quindi se tu, se una persona che si lamenta e che fa tanti errori, diciamo, chi si lamenta e fa tanti errori, può dare delle informazioni a persone invidiose sulle errori da non fare. Insomma, lamentarsi è l'unica cosa che non serve in nessun ambito della vita. Né per risolvere i problemi, né per sfogare te. Perché uno dice, beh, almeno mi sfogo. Ma non è vero. Se ti lamenti ti carichi ancora di più perché andrai a vedere ancora di più quali sono le problematiche. e quindi ti focalizzerai sui problemi e non sulle soluzioni. Ma questo vale anche nelle relazioni interpersonali, sentimentali, effettive. Metti che, facciamo un esempio, incontri un uomo con cui esci, che dopo un po' inizia a raccontarti tutti i problemi che ha col lavoro, con la famiglia, le preoccupazioni per i figli, che ne so, il fatto che gli sei rotto il bagno in casa, è tutta aria fritta per te. Che te ne importa? Certo, ti puoi importare il bagno in casa se tu hai il programma di andare lì, diciamo, a soggiornare nel weekend lì e quindi non ci puoi andare perché ha il bagno rotto. Ma altrimenti, del fatto che lui abbia il bagno rotto non te ne può fregare assolutamente di meno se lo smenazza lui e non va a interferire con la tua vita. Potrebbe essere un problema anche per te se al bagno è rotto e ti dici guarda, mi devo trasferire un attimo a casa tua, allora devi trovarti una scusa per non farlo venire a casa tua, fondamentalmente. Ma altrimenti non ti importa assolutamente di nulla di quello che ha, di quello che gli capita, delle situazioni che ci sono. Questo è nella migliore delle ipotesi, ripeto, perché la peggiore delle ipotesi sono quelli che ci godono pure del fatto che tu stia male, del fatto che tu abbia problemi, quindi smetti di lamentarti, è controproducente per te perché non serve proprio per niente, anzi ti autoalimenti dei problemi stessi, vai a comprimerli sempre di più e quindi aumenteranno sempre di più, non ti porterà nessun beneficio perché nessuno si fa il carico di risolverteli, anzi potrebbe essere appunto che vai ad alimentare il godimento di persone che sono felici del fatto di sapere che tu sei problematico, che tu hai qualche problema che per invidia o per malignità tra virgolette ne sono contenti. Beh, un altro discorso potrebbe essere quello di lamentarsi con alcune persone per strategia, per non suscitare loro l'invidia di chi va sempre bene. Questo potrebbe essere l'unica cosa, la finta lamentela, fatta ad hoc, allora in quel caso lì potrebbe essere utile, ma in quel caso lì è una recita che io faccio per non, diciamo, per tranquillizzare una persona. Questo vale anche nella seduzione. Se a me e so che a un altro interessa la stessa donna, beh, io cercherò di depistarlo, cercherò di parlare male di quella e di parlare bene di un'altra, per dire. Ma questo per depistarlo e quindi, come dire, è una strategia militare più che altro di, come dire, come sbilanciare il nemico, come sorprendere il nemico. Come si dice, in guerra e in amore tutto è permesso. Però, invece, la maggior parte delle persone si lamenta veramente, si lamenta perché sente dei malcontenti, si lamenta perché pensa ad avere qualcosa che non va e quindi si lamenta proprio sperando di trovare conforto. Ma il conforto non lo trovi assolutamente. Non lo trovi assolutamente. E ricordati che chi ti dà conforto non lo fa poi gratuitamente. Lo fa per interesse di qualunque natura essa sia. Come la famosa canzone. Perché dicevamo che nessun pranzo è gratis e l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. Come diceva la famosa canzone Don Raffae di De Andrè, voi che date conforto e lavoro, ma Don Raffae non è che ti dà conforto e lavoro a gratis. Ha sempre, diciamo, il suo tornaconto, no? Ovviamente. Per cui, detto questo, il messaggio qual è? Che non è seduttivo lamentarsi, non è producente, non contribuisce al tuo benessere, ma anzi contribuisce al tuo malessere. Non genererai compassione nelle altre persone, ma nella migliore dell'ipotesi andrai a generare ilarità, divertimento e piacere nel 20% dei casi, secondo il diagramma di Pareto. Per cui smetti di lamentarti, risolvi i problemi ed agisci. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto, metti un like, condividendolo con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai partecipare ad apposite live e ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!